buongiorno a tutti andiamo a vedere un video tutorial per la compilazione delle domande di nomina di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche che ripetiamo può essere presentata attraverso le stanze online del ministero dell'istruzione dal 10 di agosto fino al 21 agosto in tal caso vediamo come inserire le preferenze di sede distinguendo le per classe di concorso distinguendo le anche oltre la classe di concorso per preferenza puntuale di scuola o preferenza di comune o distretto una volta entrati nelle stanze online e accreditati con nome utente password oppure con lo speed una volta appunto dicevo entrati nel sistema informatizzato si va alla domanda delle informatizzazione delle nomine di supplenza si entra nella domanda in particolare si va sui dati personali ma facendo ancora avanti entriamo nel modello di presentazione di domanda che già nel precedente video tutorial abbiamo visto come fare l'azione proprio dell'inserimento degli insegnamenti delle classi di concorso per cui si vuole fare distanza compilando questa sezione in fondo definita come espressione delle preferenze supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e facendo l'azione disponibile che inserire proprio la la sede vediamo che compare una tabella divisa in colonne dove c'è l'ordine di preferenza che è numerico sarà chiaramente la prima preferenza sarà quella prioritaria e poi in subordine le successive il tipo di insegnamento che si vuole richiedere la preferenza che può essere ripeto o puntuale di scuola o sintetica di comune o distretto il tipo di contratto per cui si richiede la supplenza andiamo a vedere come funziona proprio l'aggiungere una preferenza si va su aggiungi una preferenza e cliccando aggiungiamo la preferenza vedete qua abbiamo degli asterischi che significa che i campi sono obbligatori da inserire per esempio l'insegnamento si riferisce alla prima sezione a quella che abbiamo già inserito abbiamo in questo caso nel caso specifico quattro possibilità per esempio scienze motorie per la scuola secondaria di primo grado a 0 49 se io clicco significa che voglio come prima preferenza questa classe di concorso e quale tipo di preferenza o ne ho tre da scegliere o scuola o comune o distretto per esempio scegliamo una puntuale una scuola e così arrivati sceglierò anche questo asteriscato comune sceglierò un comune della provincia in cui sono inserito per esempio la provincia è reggio calabria e sceglierò un uno dei comuni di reggio calabria per esempio proprio quello della città di reggio calabria che vado a scegliere e cliccando avrò il comune già a questo punto tutto il resto non è asteriscato non c'è bisogno che io conosca il codice meccanografico o la descrizione della scuola facendo cerca mi verrà data tutta la l'elenco delle scuole della città di reggio calabria per esempio scelgo lo spanobolani come prima preferenza e a questo punto posso fare proprio aggiungi seleziono quella scuola vedete mi comparirà come prima preferenza quel di insegnamento di a 0 49 che io avevo scelto e la scuola dello spanobolani il sistema mi darà in automatico solo il tipo di contratto annuale se io voglio invece partecipare per questa scuola su tutti le tipologie di contratto posso aggiungere anche quello fino al termine di attività didattiche e se voglio partecipare addirittura su uno spezzone aggiungerò spezzone però mi verrà richiesto di che tipo di spezzone voglio e io posso dire da un minimo di sette ore a un massimo di 17 questo è il lo spezzone che posso richiedere questo è quello più ampio lo posso chiedere anche più ristretto volendo dunque questo diciamo ognuno fa come meglio crede si inserisce ecco che adesso io il tipo di contratto già inserito poi posso anche dire che il completamento visto che uno spezzone non è una cattedra completa può essere fatto sullo stesso insegnamento e dunque posso cliccare che voglio completare oppure su insegnamento differente e posso cliccare anche questo avere dunque una gamma completa è chiaro che se preferisco cambiare l'ordine di queste diciamo queste tipologie di contratto vedete che ci sono delle frecce che mi possono portare l'annuale in giù o lo spezzone come prima e l'annuale successivo chiaramente non avrebbe senso chiedere prima uno spezzone poi l'annuale la tipologia in ordine più conveniente questa che già vedete in più posso chiedere anche le cartelle orari esterne sullo stesso comune o eventualmente averla completa anche su comune diverso a questo punto una completezza del dell'espressione di preferenza fatta come prima preferenza e allora posso a questo punto aggiungerne anche una seconda aggiunge una seconda che per esempio se può cambiare anche la classe di concorso non necessariamente devo insistere sulla 0 49 per esempio potrei chiedere come seconda preferenza il sostegno per le scuole superiori e dire che vorrei come preferenza invece che una scuola un intero comune e per esempio come comune potrei scegliere un comune come quello per esempio di bova marina e pare seleziona a questo punto vedrete che come seconda preferenza proprio quello che ho richiesto anche qui potrei fare sul tipo di contratto la stessa cosa la stessa cosa identica che ho fatto sopra se io volessi chiaramente modificare mettere come prima preferenza quella sul sostegno questa freccia che vedete qui vicino diciamo all'eliminazione della della preferenza mi consentirebbe cliccando la di portare prima il sostegno e poi la classe di concorso 0 49 io di queste espressioni sia puntuali dunque analitiche sia sintetiche ne posso fare fino a un numero di 150 per coprire il massimo possibile delle preferenze di supplenza annuale speriamo che questo video tutorial sia stato di vostro gradimento e soprattutto utile per la compilazione della domanda continueremo a tenervi informati su come compilare la domanda con prossimi articoli e dirette soprattutto dopo il 13 di agosto che è la data in cui ci saranno la disponibilità delle cattedre e delle in tutti gli uffici scolastici verrà pubblicata la disponibilità delle cattedre per le supplenze annuali un caro saluto a tutti arrivederci grazie a tutti